Siamo con Maria Segura, vincitrice questa sera insieme alla sua squadra Monza, un tuo commento su questa partita e su questa vittoria? Secondo me è una vittoria importantissima, la squadra ha giocato benissimo in battuta e anche ordine di difesa a muro e anche ricce, quindi secondo me è stata una partita perfetta, la squadra ha giocato benissimo e nel minuto zero abbiamo iniziato molto forte. Tre punti fondamentali per voi, oltre già al punto preso domenica scorsa contro Scandicci, quindi siete sulla buona strada per potervi distaccare? Siamo sulla buona strada e anche questi tre punti ci danno un momento di aria per seguire lavorando e dando fiducia alla squadra. Vincere a Modena in questo palazzetto sicuramente dà un effetto anche un po' particolare, no? Infatti, sì, sì, tutto quello che è positivo suma e va benissimo per la squadra, quindi speriamo seguire così. Quali sono le tue aspettative ovviamente già da domenica prossima contro la Coppa? Uscire come oggi, come siamo usciti in campo e andare a giocare come oggi. Grazie. Grazie mille. Ciao.